Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo al sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Gela. Sotto chiave sono finiti beni per 700 mila euro, riconducibili ad un noto soggetto vicino al clan mafioso Emanuello e coinvolto nel traffico di droga. L'operazione è un appendice del Blitz Family Market del 12 gennaio del 2010. In quell'occasione furono arrestate 38 persone. Vediamo. Beni per oltre 700 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Gela nell'ambito dell'operazione Bank Draft a segni circolari. Si tratta di due mobili, di un terreno, di un immobile abusivo in corso d'opera, di un'attività commerciale, di due autovetture, tra cui una BMW X5, di una moto e di cinque depositi bancari. Tutti riconducibili ad un noto soggetto vicino al clan mafioso Emanuello e coinvolto nel traffico di droga. Le fiamme gialle del locale comando, diretti dal capitano Massimo De Vito e coordinati dal tenente Gilberto Gerli, su disposizione della direzione distrattuale antimafia di Caltanissetta, hanno eseguito i sequestri dalle prime ore del mattino. Il soggetto colpito dal provvedimento era già stato coinvolto in una precedente indagine degli stessi finanzieri di Gela, operazione Family Market, del 12 gennaio del 2010, nella quale fu struncato uno staturizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo quanto stabilito dalle indagini, grazie alle intercettazioni, era emerso che soggetti imparentati tra loro e con il contributo delle rispettive mogli e dei loro più stretti parenti gestivano lo spaccio di cocaina a Gela acquistando la Mantua nelle zone del Catanese e del Palermitano. In quell'occasione 38 persone furono raggiunte da custodia cautelare e 74 furono denunciate. Per la fornitura di sostanze stupefacenti, il sodalizio criminale gelese, avvalendosi di consolidate conoscenze in territorio catanese, palermitano e mantovano, si avvaleva dei propri referenti e provvedeva al sistematico invio di corrieri deputati al ritiro della droga. Dall'altro, una volta ottenuta la sostanza stupefacente, il gruppo criminale, forte di vincoli di parentela, si occupava di gestire la fase dello spaccio. Dall'ora ad oggi l'attività di indagine è continuata in maniera meticolosa. Adesso sono stati aggrediti i patrimoni. Passata al setaccio la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria del soggetto al centro del traffico di droga. Il codice antimafia ci permette di continuare a verificare la posizione di queste persone anche dopo l'arresto e di conseguenza evidenziare la sproporzione tra i beni dichiarati e i beni effettivamente posseduti da questi soggetti, dando come presupposto la possibilità che questi beni siano derivanti da attività illecite. Con l'attività odierna, quindi sono stati posti sotto sequestro diversi beni riconducibili a uno di questi soggetti, grazie a una meticolosa opera di controllo dei flussi finanziari e economici dei beni di questi soggetti e soprattutto andando oltre all'apparenza, quindi andando a guardare quelli che erano i reali possedimenti e non quelli derivanti dalle fittizie intestazioni, dalle interposizioni di persone che non erano collegabili direttamente al soggetto. Un gelese geometra di 60 anni per cause al vaglio della polizia stradale di Sant'Agata Militello ha perso il controllo della propria Fiat Panda volando in un viadotto. La vittima ha riportato traumi alla testa ed in diverse parti del corpo. L'uomo estratto fatica dalla vettura, vista la gravità della situazione, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Catania. L'incidente si è verificato questa mattina sulla autostrada A20, esattamente all'altezza di Contrada Scafa, a Capodorlando, nel Messinese. A Niscemi la polizia arresta due spacciatori di droga nell'auto sulla quale viaggiavano rivenuti 50 grammi di marihuana. Sottoposti a controllo sono stati trovati in possesso di un quantitativo di marihuana occultata all'interno dell'auto sulla quale viaggiavano. Sono stati arrestati dalla polizia e collocati ai domiciliari con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente. E quanto accaduto a Niscemi? Destinatari del provvedimento restrittivo sono due pergiudicati, Roberto Schembri, 30 anni, ed il ventenne Ghetano Menzo. Sono stati trovati in possesso di circa 50 grammi di marihuana. Gli agenti di polizia, diretti dal commissario capo Andrea Monaco, hanno dato vita ad un servizio finalizzato alla prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. La squadra investigativa, con l'ausilio di personale della squadra volante, ha proceduto in una zona poco distante dal centro abitato al controllo di un'autovettura con a bordo i due soggetti, già noti per i diversi precedenti di polizia in materia di spaccio di droga. Alla vista dei poliziotti, i due Niscemi hanno mostrato segni di insofferenza e a quel punto gli agenti hanno proceduto ad una perquisizione personale nei loro confronti, successivamente estesa anche all'auto sulla quale viaggiavano. La perquisizione ha dato esito positivo. Occultata sotto il sedile lato passeggero della macchina, è stata rinvenuta una busta di plastica contenente un involucro di carta stagnola con all'interno lo stupefacente. I due sono stati immediatamente arrestati. Il controllo di polizia rientra nell'ambito dell'implementazione dei servizi di ispezione del territorio e dell'attività di contrasto al mercato illecito degli stupefacenti, disposto dal questore Bruno Megale, di concerto con il procuratore della Repubblica del Tribunale di Gela, Lucia Lotti. Cambiamo argomento, adesso parliamo del referendum sulle trivelle di domenica prossima. Il no arriva dal Partito Democratico di Gela, a rischio i posti di lavoro. Sentiamo perché. Onorevole, lei ha sostenuto e sostiene le ragioni del no, ma soprattutto sostiene un'altra alternativa che è quella di astenersi dal voto. Completamente, perché ritengo che sia un referendum inutile, che non incide completamente sul futuro della politica di tipo energetico. E voglio premettere che sono stati tra quelli che anche alla Regione ha votato no per non fare il referendum. Quindi io sono in coerenza con quello sul mio voto che ho fatto alla Regione, perché ritengo che le trivelle, facendo parte del protocollo d'intesa, per Gela votare sì potrebbe avere il significato di un rischio per i posti di lavoro che verrebbero a essere integrati con il protocollo d'intesa. Questa posizione non è in spregio ai principi della nostra democrazia partecipata, che ci dà l'opportunità comunque di dire la nostra su argomenti molto importanti? La domanda mi piace, è molto intrigante, però io penso che libertà significa anche libertà di non andare a votare. E di sprecare un sacco di soldi per organizzare questo referendum? Il referendum lo ritengo inutile perché il quesito così come posto non ha nessun significato pratico, come dicevo prima, però innalzare il livello culturale nostro e della gente e conoscere di più sicuramente non è uno spreco. Io andrò a votare no perché ritengo questo referendum sia imparziale e insufficiente. Detto questo però per la prima volta nella mia vita capisco le ragioni del non voto e le sostengo, perché effettivamente così come questo referendum non dà sufficienti risposte, non cambia nulla e rischia di essere semplicemente purtroppo, essendo io profondamente democratico e convinto che in tutte le partecipazioni bisogna andare a votare, ma questa volta anche io capisco chi sceglierà di non andare a votare il rispetto. Una ragione per il no? Attualmente così come questo referendum è insufficiente, se si dovesse vincere il sì non cambierebbe nulla, di fatto noi ci troveremmo in una situazione in cui solo un pezzo della produzione avrebbe delle difficoltà oggettive, cioè solo nella trivellazione rispetto a quello che è il mondo complesso degli idrocarburi, che è ben altra cosa. Pensate che non si possa verificare o sia molto difficile che si verifichi uno sversamento? La causa principale di inquinamento al mare è la mancanza di depurazioni e lo sverso delle acque direttamente al mare. Non mi risulta che attualmente nel paese ci siano delle fondi di inquinamento dovute alla trivellazione, quindi noi abbiamo la certezza che c'è una certa sicurezza, ma non è il tema. È chiaro che rispetto a un processo di produzione industriale di qualsiasi tipo ci sono dei rischi. Il punto è se noi vogliamo continuare a essere un paese all'avanguardia, e in questo caso una città all'avanguardia che mantiene un processo industriale, oppure vogliamo perdere questo processo industriale per dedicarci all'incertezza. Però su una cosa voglio essere chiaro, io sono convinto che il futuro siano energie alternative, ma questo lo possiamo costruire solo nel tempo e negli anni. E la Filtem CGL nell'ambito del referendum voterà no. Vediamo. Nel pieno rispetto dello strumento del referendum voterò senza dubbio no. La teoria del poi vedremo, in assenza di un piano strategico e di una scelta politica vera di fondo, non solo non mi convince, ma rischia di rappresentare un pericolo che il paese e la Sicilia potevano farne benissimo a meno. Lo dice la segretaria generale della Filtem CGL Sicilia, Giuseppe D'Aquila, a pochi giorni dall'apertura della consultazione referendaria. Il dibattito sul referendum del 17 aprile si sta svolgendo alla pancia della gente. Il paese sta perdendo una grande opportunità di dibattito. Non basta chiudere le raffinerie e tappare i giacimenti di idrocarburi dentro le 12 miglia per risolvere il problema della riconversione energetica del nostro paese. L'Italia, paese industrializzato e in quanto tale energivolo per definizione, produce solo il 10% dell'energia necessaria utilizzando il miglior mix energetico possibile, gas e rinnovabili, e la restante parte viene importata dalla Francia, dalla Germania, dalla Russia e dall'Algeria. Paesi che hanno scelto di determinare mix energetici basati sul carbone, Germania, e dal nucleare, Francia. Il 90% dell'energia all'Italia necessaria che viene dunque importata proviene da zone del mondo dove le restrizioni sull'ambiente sono ben diverse dalle nostre, naturalmente in peggio. A rispetto a questo contesto, sottolinea D'Aquila, che fatico a scovare nei meandri del dibattito referendario, difendo il lavoro e i lavoratori. Per il segretario generale della Filtem Cigela Sicilia, se vogliamo invece affrontare il tema su come posso determinare un cambiamento verso un processo energetico differente, qualunque esso sia, dobbiamo allora avere il coraggio di affrontarlo nella sua complessità, senza ipocrisia e con rispetto di chi ha un'opinione diversa. Per questi motivi credo che la referendum, al di là del quesito alquanto vuoto, è stata una clamorosa opportunità sprecata. È stato infatti caricato di contenuti inquinanti che non ci hanno consentito di affrontare i temi veri e nella sua complessità. È stato scelto il percorso più semplice ed abbiamo preferito parlare alla pancia della gente piuttosto che alla loro testa. Di fronte a temi così complessi, non ci è concesso semplificare e cedere alla tentazione di affidarsi a soluzioni illuminate di chi ha il dovere di spiegare come si realizzano le cose, soprattutto se le ripercussioni delle scelte le pagheranno gli altri. Le contraddizioni di questo dibattito, anche in Sicilia, chiude il segretario generale, se si dovesse raggiungere il quorum e dovessero vincere sì, rischiamo di pagarle care in termini ambientali e di sviluppo occupazionale. Le scuole di Gela, sede di seggi elettorali e gli altri istituti scolastici che ne avevano fatto richiesta agli inizi della prossima settimana saranno interessati da interventi di disinfestazione. Lo annunciano gli assessori all'ambiente, Simone Siciliano, e alla pubblica istruzione, l'Icia Bela, comunicando che si tratta di azioni già programmate. Nell'arresto della città, invece, le operazioni di derattizzazione e disinfestazione saranno effettuate dalla ditta che si aggiudicherà il bando in scadenza. E in una nota, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ribadisce che in linea con le politiche di tutela sanitaria è stato chiesto che venisse disposta la disinfestazione delle scuole di Gela, sede di seggio, per il referendum del 17 aprile. Prima del nostro intervento, ai dirigenti non risultava alcuna indicazione in tal senso. Avendo rilevato che l'amministrazione comunale non si era attivata, abbiamo chiesto e ottenuto che la disinfestazione venisse disposta. La scelta di porre attenzione su questa problematica è necessaria perché le scuole, sede di seggio, dove i nostri bambini vanno regolarmente, nei giorni delle elezioni vengono utilizzate dalla cittadinanza tutta con inevitabili problematiche igieniche derivanti dall'apertura al pubblico. Crediamo che la disinfestazione debba essere in questo caso un atto dovuto cui non si debba mai rinunciare e ci meravigliamo del fatto, si legge nella nota, che l'amministrazione non avesse dato alcuna indicazione in tal senso. Non si è svolta a Roma l'udienza di merito relativa al ricorso presentato dal coordinamento NOPEOS contro la realizzazione di un parco eolico offshore composto da 38 pali, programmato per essere realizzato a due miglia dal bagnasciuga antistante il castello di Falconara. L'udienza è stata rinviata al 4 di luglio a seguito del trasferimento del relatore del procedimento e per consentire al nuovo relatore di prendere visione delle carte e dei documenti. Ciò potrà consentire di realizzare il tanto richiesto incontro tra il coordinamento NOPEOS ed il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, che ad oggi, si legge in un comunicato, non ha risposto ai pressanti inviti che si susseguono già dal mese di settembre. Presi del mese dell'estem, ma anche un'evoluzione all'interno della scuola, si promuovono le materie scientifiche soprattutto tra le ragazzine? Sì, soprattutto la parità di genere. Questa è la giornata conclusiva di un percorso che abbiamo iniziato già da qualche settimana e proprio questa settimana l'abbiamo intitolata la settimana della scienza, dove ragazzi e ragazze sono stati diciamo spronati soprattutto a frequentare i laboratori di scienza ad applicarsi in quelle appunto che sono le materie prettamente scientifiche. Però a Latera abbiamo anche organizzato una mostra sulle figure femminili che si sono distinte a partire da Marie Curie nell'ambito appunto delle scienze e delle tecnologie. Questo per far capire che non è solo compito dello Stato, così come recita l'articolo 3 della Costituzione, rimuovere tutti quegli ostacoli sociali e culturali per la piena produzione e consapevolezza della dignità dell'essere umano, ma è compito precipuo anche delle scuole. Il Soroptimist Club di Geli ha immediatamente colto attraverso la nota del MIUR questo progetto, il mese delle STEM, che si è poi evoluto in maniera molto interessante. Abbiamo abbracciato il progetto del MIUR e delle pari opportunità a livello nazionale e quindi abbiamo creato, cioè abbiamo portato avanti questo progetto che ha avuto tre fasi. Prima fase, un convegno, un convegno nel quale abbiamo avuto la possibilità di contattare via Skype o in videoconferenza quattro eccellenze del nostro territorio di Gela. La seconda fase del progetto, il secondo step, è stata la visita delle studentesse, dei licei e degli studi superiori all'azienda Lascot. E poi, terza fase, è stato un video, un video che viene già trasmesso a Canale 10. L'impegno è stato quello, è l'obiettivo quello appunto, di portare avanti la condizione della donna e far capire ai giovani che possono farcela e alle donne in particolare. La sua esperienza è veramente una fonte documentale vivente per tutti questi giovani che l'hanno ascoltata con grandissima attenzione. E adesso invece per le ragazzine che ci seguono da casa, che cosa consiglierebbe? Di definire i propri bisogni e di perseguire le soluzioni a questi bisogni. Il mestiere di ciascuno di noi deve per primo farci gioia e dopo procurarci da vivere. Nella sua lunga carriera professionale qual è stato il momento più critico? Forse quello di diventare primaria in un ambiente di uomini? Situazioni critiche se ne vivono ogni giorno. Fare il primario non è stato facile, però è stato appassionante. Guardarmi all'indietro dico che è stato bene così. I ragazzi hanno tanto bisogno di buoni esempi e raccontare la propria vicenda professionale a partire dalla vostra storia che è una storia familiare che poi si è evoluta invece in modo straordinario diventa davvero un elemento di grande importanza. Bisogna sempre credere nelle proprie forze e cominciarla a dire ai ragazzi perché siamo convinti che bisogna sempre partire dalla base per poter fare un buon lavoro con tutti. I ragazzi sono il nostro futuro e noi crediamo tantissimo in loro e quindi oggi io cercherò di riproporre la nostra esperienza per fare in modo che qualcuno possa acquisire questa informazione e capire che il mondo è di chi lo esplora. Torna questa sera come ogni venerdì a Gorail rotocalco settimanale di Canale 10 ideato e condotto da Franco Gallo che punterà i suoi riflettori sul disegno di legge che istituisce i nuovi liberi consorsi di comune in Sicilia e con loro le aree metropolitane in una delle quali e cioè quella di Catania confluirà gelaggia a partire dai prossimi mesi. Quali vantaggi quali incognite e quali prospettive per il nostro territorio che dopo oltre un secolo di rivendicazioni ottiene finalmente di lasciare l'ambito provinciale di Caltanissetta per passare con quello del capoluogo Etneo. A parlarne in studio alcuni dei fautori di questo passaggio epocale ed anche chi come il deputato regionale gelese Pino Federico ha sempre osteggiato una tale ipotesi. Appuntamento dunque a partire dalle 21 su Canale 10 con una nuova interessante puntata di Agora che lo ricordiamo sarà visibile in diretta streaming in tutto il mondo attraverso il sito internet tg10.it Ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità. Ed eccoci seconda parte del telegiornale costruiamo il futuro in una città che cambia dalla rassegnazione al progetto per una nuova economia sociale. E' il titolo del convegno promosso dalla diocesi di Piazza Medina tramite l'osservatorio pastorale di Gela fortemente voluto dal vescovo Rosario Gisana che si darà venerdì 29 aprile alle 17 presso l'auditorium dell'istituto tecnico commerciale Luigi Sturzo di Gela. L'osservatorio pastorale cittadino composto da laici impegnati con una significativa esperienza di animazione sociale provenienti da tutte le parrocchie gelesi e presieduto dal vicario Foranio Michele Mattina ed è stato costituito in supporto al servizio del vescovo con la missione di sostenerlo nella sua azione pastorale. Cosa vuol dire essere avvocato magistrato oggi? Operare deontologicamente nel mondo giudiziario al di là delle controversie che spesso attraversano la società democratica e civile. Questi temi affrontati durante il quarto degli incontri organizzati dall'Associazione Nazionale Magistrati preseduta da Fernando Asaro che nell'aula magna intitolata i giudici sette e livatino ha visto come protagonisti il sostituto procuratore della procura della Repubblica di Palermo Paolo Guido e l'avvocato del foro di Caltanissetta Giuseppe Iacona La deontologia è un aspetto importante dell'attività del magistrato direi quasi a volte è superiore alla competenza professionale e alle caratteristiche tecniche del magistrato spesso l'essere deontologicamente corretto è ancora meglio di essere professionalmente attrezzato quindi oggi è un momento cruciale è un passaggio importante nella storia anche dell'amministratura italiana che ha bisogno di un recupero anche in questo senso è una deontologia nel mondo della magistratura così come esiste una deontologia nel mondo dell'avvocatura diciamo che il sistema giustizia e chi di questo sistema è parte essenziale deve osservare delle regole etiche regole che non attengono soltanto alla morale ma sono regole cogenti a tutti gli effetti e sono indicano il modo di comportarsi nello svolgimento delle importanti funzioni giurisdizionali un'occasione di incontro e dibattito non solo per gli avvocati e magistrati presenti per l'occasione ma anche per gli studenti degli istituti superiori della città che hanno rivolto ai relatori domande e curiosità su come bisogna operare nella giustizia in maniera etica e corretta abbiamo organizzato il dialogo della magistratura con la società uno dei tanti dialoghi che è che la giunta sezionale dell'NM di Caltanissetta organizzato per la cittadinanza nissena al fine proprio di mettere a fuoco il ruolo del magistrato oggi e il ruolo dell'avvocato oggi la deontologia forense quindi la deontologia nel mondo giudiziario è un principio assolutamente cardine devo dire il nostro ufficio la nostra sede giudiziaria è un esempio penso rispetto a tutti gli altri uffici giudiziari di ottimo rapporto tra magistratura e avvocatura il consigliere comunale di Forza Italia Salvatore Scerra dopo aver raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini e commercianti del quartiere Quattrocanti ha chiesto all'amministrazione comunale di intervenire per la tutela del decoro urbano Scerra ha indicato come pericolosi parte della pavimentazione stradale mancante in Piazza Martiri della Libertà ed alcuni pali dell'illuminazione pubblica non funzionanti richiesti anche interventi relativi al verde pubblico con la potatura degli alberi di via Trieste e la rimozione di alcune palme da piantumare altrove bisogna valorizzare la bellezza del centro storico Federiciano ha detto Scerra dedicando ad esso tutte quelle attenzioni che vanno riservate al salotto urbano di Gela l'assessore comunale ai lavori pubblici Flavio Di Francesco ha effettuato un sopralluogo annunciando i relativi interventi nel corso dei prossimi mesi secondo il piano concordato all'interno del settore comunale dove è possibile ha dichiarato il componente della giunta messinese l'amministrazione cerca di dare seguito alle stanze dei cittadini allo scopo di dare decoro alla città ci auguriamo che i cittadini rispondano con maggiore senso civico al fine di salvaguardare il bene pubblico e adesso parliamo di sport grandi risultati sono stati raggiunti dalle ginaste gelesi della Gymnastics Club di Gela durante la gara che ha concluso le fasi regionali di ginastica ritmica che si sono tenute sabato scorso presso il Palacanizzano di Catania la gara ha riguardato la sezione ginastica ritmica a fune cerchio palla clavette e nastro e nella quasi totalità le ginnaste istruite da Ilenia Cosenza si sono qualificate alle finali nazionali un altro importante traguardo per le ginnaste della Gymnastics Club questa volta qual è il risultato raggiunto prestigioso che è preludio di un'altra importante tappa finale regionale a Catania presso il Palalivatino a Catania stesso abbiamo praticamente raggiunto ottimi risultati sul podio le ginnaste si sono date battaglia contro le altre delle varie società sportive siciliane e quello che mi ha in qualche modo un po' reso felice è perché hanno ottenuto sì gli ottimi risultati ma lo hanno ottenuto lavorando in maniera totalmente indipendente rispetto agli altri nel senso che hanno lavorato e si sono riscaldate indipendentemente dal lavoro degli altri e questo è stato il carattere che in qualche modo cerchiamo di far uscire fuori prossima importante tappa loro hanno ottenuto il pass per le finali nazionali che si faranno a Pesron a giugno 2016 siete pronti per affrontare questa nuova sfida? non siamo mai pronti ma ovviamente ci alleneremo con questo obiettivo che cosa vuol dire per voi essere campionesse regionali? è stato bellissimo partecipare a questa gara perché a parte me tutti abbiamo raggiunto dei risultati bellissimi quindi è stata una soddisfazione enorme per noi io sono Marika ho nove anni e ho partecipato alla gara regionale primo livello prima fascia con gli attrezzi fune, palla e corpo libero è stata la mia prima gara regionale sono arrivata seconda e sono stata felicissima perché come ho già detto è stata la mia prima gara è stata una grande soddisfazione salire sul podio io sono Rachele e ho dieci anni e ho fatto la gara a primo livello prima fascia con gli attrezzi fune, palla e corpo libero sono arrivata al nono posto ma non diciamo sono stata abbattuta perché grazie alle parole di Walter che aveva detto che anche se abbiamo fatto tanti errori non significa che siamo meno brave ma che in quel giorno abbiamo fatto più errori io mi chiamo Clara Gervetti ho 11 anni faccio ginnastica ritmica da 4 anni il mio sogno è sempre stato quello di andare alle olimpiadi e in quest'anno alla gara regionale sono arrivata prima e quindi sono campionessa regionale ed è stata un'avventura molto entusiasmante arrivare sul primo gradino mi chiamo Elaria Cataldo ho 12 anni e ho gareggiato nella terzo livello seconda fascia con gli attrezzi palla fune, cerchio e nastro per me è stata un'emozione grandissima salire sul secondo gradino del podio cioè non me l'aspettavo comunque perché anche se abbiamo lavorato moltissimo in palestra è sempre un'emozione nuova salire appunto lì e ritrovarsi tutti che ti applaudono e tutti che ti acclamano è prevista per oggi alle 19 l'inaugurazione della sede della scuderia Valvole Pistoni Gela diretta da Davide Millauro si tratta di una associazione di amatori e cultori di auto d'epoca l'iniziativa si darà in via Portuense 17 nel quartiere Fondo Iozza proseguono gli appuntamenti inseriti nell'82esima stagione concertistica giolese promossa dalla associazione musicale Giuseppe Navarra domenica 17 aprile alle 19.15 nei locali di Palazzo Pignatelli è previsto il concerto pianistico a quattro mani con Maria Provenzano e Laura Blandino abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni